Abbiamo un gruppo completamente nuovo, vorrei fare prima di tutto complimenti ai ragazzi perché siamo stati fuori da nostra casa più di un mese. 17 giorni tra le montagne, Borgo Pace e Carpegna e dopo questo torneo a Olbi a due settimane non abbiamo avuto nessun problema. Non si è creato nervosismo, sono stati bravissimi e vorrei fare i complimenti per questo. Sicuro abbiamo avuto troppe partite, la Olbia ci voleva qualche allenamento di più ma adesso tornando a casa siamo riusciti già a fare cinque allenamenti, domenica oggi è giorno di riposo e ricominciamo domani. C'è una settimana per finire nostra preparazione da tutti gli punti di vista, essere più fluidi in attacco, avere un palleggio di più, un passaggio di più, un palleggio di meno, avere difesa un po' più connessa, più dura, più compatta, più aggressiva è sicuro, questa è la strada che dobbiamo correre questi giorni per incontrare partite domenica contro Sassari a modo giusto. Adrenalina a mille, io è da febbraio che non vedo l'ora di tornare nel palazzetto a vedere la Carpegna Progetto Basket Pesaro. Adrenalina a tanta, queste ultime partite che purtroppo non ho potuto assistere dal vivo mi hanno caricato parecchio, ho visto un gran lavoro fatto alle spalle e si è visto in campo i risultati che ci sono stati. Coach mi sembra un grandissimo capitano, non deve dimostrare nulla a nessuno, sono i giocatori e tutto lo staff che devono secondo me seguire l'esperienza di coach Jasmine Repesa. Ma ad Amadori, Costa e Cioppi gli ha dato carta bianca quest'estate? No, nel senso no, gli accordi sono scritti e chiari a tutti quanti. Un assegno in bianco? No, no, assolutamente, prima di tutto siamo brianzoli, imprenditori, quindi spendiamo fin dove possiamo e non un euro di più. Però no dai, ci sono state qualche manovra che hanno dato la possibilità di fare qualche investimento in più, adesso purtroppo la società deve ancora capire la gestione della biglietteria che per la società è un grandissimo introito e se si dovranno aprire appunto le porte dei palazzetti speriamo che possa portare un po' di energia finanziaria per appunto dare la possibilità magari anche al coach di affinare un pochettino la squadra con qualche nuovo acquisto. Penso che sia molto presto ancora per dare un giudizio concreto, diciamo, quindi aspetto magari le prime partite di campionato. Queste partite però non sono assolutamente come se fossero state delle partite amichevoli e quindi sotto questo aspetto c'è da dire che siamo partiti bene perché è la verità. C'è ancora tanto da lavorare su alcuni aspetti del gioco però abbiamo abbastanza tempo quindi avremo modo di lavorarci. Per domenica come ci si organizza? Ma ci ragioneremo un attimo, vediamo come meglio si può fare, è chiaro che è un problema molto importante che sta investendo ahimè tutto lo sport italiano, vedremo come meglio gestirla, ci ragioneremo e poi cercheremo di venire incontro alle esigenze, alle richieste dei tifosi che quest'anno stanno manifestando un entusiasmo decisamente palpabile. I tifosi però vorrebbero delle anteprime, sai che le sai qualcuno? No, 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 obiettivamente io sono molto schietto e chiaro sulle cose, finché non ci sono decisioni ufficiali non mi sbottono assolutamente perché non è corretto, non è giusto, non bisogna dare aspettative sbagliate, cercheremo ovviamente di fare le cose nel miglior modo possibile cercando, lo sottolineo, di scontentarle il meno possibile tutti perché quest'anno credo che sarà un anno in cui dovremo fare comunque delle scelte chiaramente.